Allora ragazzi vi sto facendo notare una fantastica Juke, notate una cosa di questa Juke, ha delle personalizzazioni bianche Personalizzazioni bianche sui cerchi, personalizzazioni bianche all'interno, è una macchina effettivamente particolare Il bello di questa vettura è che ognuno può farsela come vuole, possiamo mischiare i colori, cambiare i cerchi, cambiare le modanature Anche perché la cosa importante di questa cosa è che a carnevale ogni Juke vale E' l'offerta del mese, è l'offerta del mese dove possiamo tranquillamente dirvi che fino a fine febbraio avrete per tutti coloro che immatricoleranno una nuova Nissan Juke Le personalizzazioni in omaggio, quindi non verranno pagate, saranno una regalia di casa Nissan Anche perché come sapete la Nissan ci tiene a farvi andare su ogni veicolo diverso, fare in modo che le vetture siano personalizzate e siano adatte a ogni tipo di guidatore Quindi ragazzi è un'offerta incredibile, come potete sapere e come sapete benissimo qui alla Resigar, quindi qui al gruppo Resigar c'è sempre una novità E quindi a carnevale ogni Juke vale, venite a provare la nuova Juke, personalizzatela, provate anche a giocare sul sito della Nissan a fare la vostra Juke ideale Potete cambiare tutto quello che volete e avere una Nissan Juke che gira per l'Italia solo ed esclusivamente per voi e fatta completamente da voi Quindi ragazzi entro fine mese le personalizzazioni della Nissan Juke sono assolutamente in omaggio Che dire, siamo quasi a carnevale, ci sarà da divertirsi qui alla Resigar, al gruppo Resigar ci sono sempre delle grandi novità e soprattutto ci sono delle grandi sosprese che stanno per arrivare Non vi voglio svelare niente, quindi come dico sempre ragazzi, stay tuned, siamo sempre online, buona giornata a tutti